Chienge, prego. Grazie Presidente, grazie Commissario. Il numero degli elefanti vittime di bracconaggio sono aberranti. Si stima infatti che per soddisfare la domanda mondiale di Avorio vengano uccisi circa 30.000 elefanti africani all'anno. Questo fa di certe fasce territoriali africane un vero e proprio cimitero degli elefanti. Certo, il bracconaggio non riguarda solo gli elefanti, ma tutta una serie di animali. Di fronte a un tale disastro, riconosciamo il fatto che il piano d'azione dell'Unione Europea contro il traffico di fauna selvattica, entrato in vigore lo scorso anno, costituisce un primo passo verso il contenimento della piaga del traffico d'Avorio. Tuttavia, le misure più restrittive adottate da Stati Uniti, Cina e Hong Kong e risultano molto più efficaci. L'Unione Europea dovrebbe alzare il livello di guardia adottando misure altrettanto severe. Occorre interrompere il ciclo di morte che coinvolge non solo gli elefanti, ma anche le guardie forestali che dedicano la vita alla loro protezione. Dall'Africa e dai cittadini europei c'è giunto un appello a cui dobbiamo rispondere. La lotta per la salvaguardia della biodiversità e della conservazione faunistica passa anche dalla fermezza nel combattere il mercato illegale dell'Avorio. Grazie. Nel 2016 io sono stato relatore Ombra per la risoluzione sulla lotta contro il commercio illegale di fauna e flore.